Torna ad Alessandria l'antico ponte coperto sul Tanaro. Parliamo naturalmente di un olio su tela, rappresentante all'ottocentesco collegamento con la cittadella. Il dipinto in cattivo stato di conservazione dall'inizio del Settecento, dal 2002 è stato interessato da un lunghissimo lavoro di restalning e dove ammesso a nuovo verrà presentato ufficialmente giovedì 30 maggio alle 18 presso le sale d'arte di via Machiavelli ad Alessandria, con ingresso libero alla presenza fra gli altri di Cristina Antoni, presidente di Culturale Costruire Insieme, di Adolfo Carozzi, curatore dell'allestimento, di Anna Rosa Nicola, direttore tecnico della Nicola Restauri e di Antonella Perin, architetto del Politecnico di Torino e naturalmente del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cutica di Revigliasco. È un dipinto importante in quanto rappresenta uno spaccato, diciamo così, di vita alessandrina durante il Seicento, nei pressi del fiume Tanero si vede due parti alessandri interessanti perché è rappresentato anche una parte di quello che era l'antico borgo di Bergoglio che poi fu, come tutti sapete, demolito per far posto alla struttura della cittadella. Quindi è un quadro che rappresenta un momento di storia importante, di un manufatto che non esiste più, è l'unica immagine che abbiamo di questo manufatto, ma è anche un dipinto che rappresenta, come dicevo prima, scene di vita presso il fiume. Il dipinto, che sarebbe opera di un pittore piemontese del XVII secolo, proveniva dal Palazzo Comunale, quale dono di Gian Battista Cortona del 1854 ed è stato posto nella Pienacoteca Comunale dal 1921. Documenta fra l'altro l'esistenza di Ponti di Regno sul Tanero dall'inizio del XV secolo. Questo dipinto, quindi al di là del valore artistico, ci porta anche una riflessione interessante che è ma oggi potrebbe essere possibile un ritorno, diciamo così, di vita nei confronti del fiume senza ritenerlo semplicemente un elemento pericoloso e dannoso?